Carissimi amici, ben rientrati da questo blocco, parliamo ancora di musica, di show, di spettacolo, lo facciamo insieme al grande, unico Umberto Graziano. E come la va? Ogni tanto ci si rincontra da queste parti per parlare naturalmente di vita vissuta. Cosa c'è? Quella da vivere. Quella da vivere lo dobbiamo raccontare, e te lo sappiamo. Carissimo Umberto, le cronache oggi parlano molto di te, ma questo lo raccontiamo dopo e il perché. Parlo di te perché stai mettendo su una grossa rassegna di spettacolo nei prossimi giorni, nel prossimo aprile, porterai, cioè rifarai, rimembrerai, ricorderai quello che era la nascita del Poco Locco di Alghero, con una bella rassegna di cabaret. Meravigliosa. Meraviglioso. Perché appunto nel 98, quando il Poco Locco è inaugurato, ai primi due anni abbiamo fatto una rassegna di cabaret ogni lunedì, a distanza di 18 anni, perché sono passati insieme a ieri, ma sono passati 18 anni, vorremmo fare una rivisitazione di quel periodo, perché abbiamo ideato questa rassegna insieme ai fratelli Saba, si chiamerà, il titolo è Rewind Comics, che prevede tre appuntamenti a distanza di circa quattro settimane l'una dall'altra, la prima con Ale Franz il 25 di aprile, la seconda il 20 maggio con i tre sardi, e la terza il 7 giugno con Max Pisu. Abbiamo detto tutto, la grande. Tu sei stato un po' il padrino di questi artisti, perché all'epoca loro non erano neanche famosissimi come adesso. Non lo erano affatto. Perché poi dopo è successo per loro, è successo tutto, quindi per loro è un grande ritorno a casa questo. Sì, ma infatti oggi come oggi, dal punto di vista economico, faccio veloce, probabilmente non ci saremmo potuti permettere questa rassegna. Invece loro si sono presi disponibili proprio perché... Per l'ho fatto di riconoscenza. Assolutamente sì, e questo dobbiamo ringraziare sia a Max Pisu che a Ale Franz che hanno dimostrato veramente cuore. Quindi Rewind Comics nei prossimi giorni, il 25 aprile, la prima al Poco Loco. Quindi non mancate, fate l'abbonamento per i tre appuntamenti. Quindi il primo con Alex Franz, il secondo con tre sardi e il terzo con Max Pisu. Quindi Pisu, non potete mancare a questo avvenimento e neanche noi ce lo potremmo perdere. Però parliamo dei tre sardi, che i tre sardi sono sempre in piena evoluzione, che raccontano sempre nuovi repertori. Cosa ci sarà nel Calderone del 2016? Dunque, intanto abbiamo implementato l'orchestra. Implementa bella, mi piace bella. Che non so cosa vuol dire, però mi piace. Però mi piace. Abbiamo implementato l'orchestra, abbiamo alcuni nuovi acquisti, in particolare nella sezione Fiat, il buon Torre Moraccini al trombone, che affiancherà Gian Piero Carta al sax e Emanuele Dau alla tromba. Poi ci sarà sempre il buon Andrea De Sole al pianoforte, quest'anno però avrà un ruolo di primo piano, sarà un po' il frontman dell'orchestra, con nuovi arrangiamenti, nuovi brani, un altro nuovo acquisto. E qua devo ringraziare la nostra comune amica Barbara Sanna. Barbara Sanna. Perché è lei che ha forgiato questo nuovo talento che abbiamo inserito all'interno dell'orchestra, si chiama Daniela, nuova cantante, ha le prime esperienze, nonostante abbia 25 anni, esperienze di palco. Devi sentire questa ragazza, veramente è stata un certo, ha del suo evidentemente, però certamente Barbara Sanna l'ha forgiata nella maniera giusta e ha tolto fuori un prodotto eccezionale. Quest'anno l'ironia dei tre sardi su che cosa si baserà, che sarà il tema principale? Il tema ricalca un po' quello dell'anno passato, dunque parleremo sempre delle difficoltà economiche che in questo momento attanagliano l'isola e non solo, per cui si parlerà sempre della crisi. Parleremo anche del nostro problema della peste suina africana, che anche se le nostre amministrazioni regionali stanno combattendo almeno dal punto di vista politico, ancora insomma il problema non è debellato. Il nostro maialetto per il momento lo offriamo termizzato sotto vuoto e non credo che facciamo una grande bella figura fuori con questo maialetto. Eh beh lo so, la verità no. Possiamo dare già qualche appuntamento volendo? Sì, certo, certo. Il mese di maggio inizieremo la nostra tournée per il 2016, partiremo il 9 di maggio con la festa di Ardara e ritorniamo a Sassari dopo tanti anni, faremo la festa di Santa Lucia all'Ipunti il 27 di maggio, mentre il 28 saremo a Ossi, il 3 giugno saremo a Badesi. Tante date, voglio dire, avete un sito dove vi possono comunque reprire i vostri fans? Beh sì, insomma, è solito, faccio bucche e quant'altro. Come nascono i personaggi dei tre sardi? Chi è che li studia, chi è che li rapisce, si riporta dentro e poi li fa diventare personaggi sul palco? Beh, certamente dalla vita quotidiana, ma questa è una risposta quasi scontata. Decidiamo intanto il tema, di cosa vogliamo parlare, per cui andiamo sull'attualità, su quelle che secondo noi sono i temi più caldi, quelli che ci stanno un po' più a cuore e poi da lì scatturiscono i vari personaggi che rispecchiano poi le caratteristiche caratteriali delle persone che incontriamo tutti i santi giorni. C'è il rischio di offendere qualcuno quando si fanno queste cose? Qualcuno che faccia... Sempre. Sempre, cosa succede in quel caso? Come si giostra la situazione? Che col tempo, con l'esperienza abbiamo imparato ad usare, a stare un po' più attenti, per cui prima magari, per mancanza di esperienza, sì, spesso qualcuno travisava, perché in realtà istintivamente noi non, anzi, l'ungete noi offendere qualcuno, tutt'altro, però a volte le cose vengono travisate e allora è capitato, devo dire. Fra i tre sardi quali sono i tre ruoli principali? Umberto Graziano, qual è il ruolo principale? Umberto Graziano è autore e regista, spalla. Mentre Gigi? Mentre Gigi è certamente il personaggio comico, insieme ad Angelo. Insieme ad Angelo. Bene, abbiamo secondo me un appuntamento imminente, che è il 26... No, il 29... Il 29 di maggio. Qualcuno di voi ricorderà che qualche settimana fa è decenduto un bambino a quarto, mentre giocava a pallone, perché aveva una rovesciata. Tu sai benissimo che sono il presidente della Nazionale Artisti Sardi, sono stato contattato per creare un evento per ricordare questo bambino, perché ricorre il suo compleanno. Per cui abbiamo ideato questa manifestazione, che è il buon compleanno Luca, il regalo per Luca verrà destinato ai bambini meno ambienti della scuola calcio di Quarto Sant'Elena, cioè i bambini che non possono permettersi una retta per andare alla scuola calcio, riceveranno questo contributo, che sarà il regalo che la gente che parteciperà a questa manifestazione farà al bambino. Dunque, il 29 maggio, presso i campi Sporting San Francesco di Quarto, che è il posto dove il bambino giocava, ci sarà la Nazionale Artisti Sardi, una squadra composta dai genitori dei bambini della scuola, una degli allenatori, una squadra, le vecchie glorie del Cagliari, le vecchie glorie della Torres, chiedo scusa, e... Vabbè, la Nazionale Artisti Sardi sappiamo, ci sarà Pieromaro, Percato Benito che è a Roma, ma io sono contento per lui perché è una cosa importante, ci sarà Chico Solinas, che farà a te. Con molto piacere, devo dire. Faremo dunque lo spettacolo, oltre alla partitella di calcio, che è soltanto una scusa, faremo appunto uno spettacolo per raccogliere questi fondi, ci sarà la diretta su Radiolina, tant'è che ci sarà anche la squadra dei DJ Sardi, capitanata dal Simon Luca, e niente, dunque una manifestazione importante, proprio perché intanto ricordiamo questa disgrazia enorme che è capitata, e poi soprattutto perché aiutiamo dei bambini che non avrebbero possibilità. Bene, noi ringraziamo te Umberto Graziano per aver presenziato a questa bella puntata di Talk Vision, a cui facciamo tanti auguri. Grazie, e noi li riceviamo con un immenso affetto, e l'appuntamento è rinnovato naturalmente quando volete, noi siamo sempre a disposizione. Grazie. Con Umberto Graziano ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani con un'altra puntata di Talk Vision, ciao a tutti, ciao.